Rieccoci cari amici a Saperi e Sapori, siamo sempre qui al ristorante La Cloche in strada traforo il Pino 106, siamo nella parte conclusiva della nostra bella serata. Marco abbiamo visto musica, abbiamo parlato di spettacolo, di arte, di cultura, cosa proponi e che cosa ci inventiamo per la Cloche di oggi e di domani? Ci inventiamo di mettere in piedi questa parola grossa, questo polo culturale multifunzionale dove dare spazio a queste realtà che oggi invece sono magari un pochino più nell'ombra, questa è la grande ambizione che abbiamo. Ci prometti però che ci farai anche ridere? Beh sì, già il fatto che però farlo fa ridere. Bene, un grazie a Marco Carena, lo rincontreremo nelle nostre puntate quando torneremo qui alla Cloche a vedere lo sviluppo delle iniziative del locale. Monica, una battuta conclusiva su arte e cultura oggi in Piemonte, focalizziamoci soprattutto sul nostro territorio. Che cosa ci possiamo aspettare di significativo dal mondo dell'arte? Vi è del fermento, vi è qualcosa oppure semplicemente una costante rivisitazione? No, in realtà no, anzi ci saranno secondo me dei grandi cambiamenti dovuti anche al momento particolarmente difficile a livello storico, a livello politico, però forse questo aiuterà un attimino anche a svecchiare un pochino. Torino teniamo conto è che è sempre stato un grandissimo polo culturale e anche artistico, di grandissimo fermento e di grandissimo interesse. Abbiamo anche grandissimi artisti emergenti che hanno voglia di fare, che provano, che sperimentano e abbiamo anche un sindaco effettivamente che ci crede. E arriviamo anche da un nostro vecchio sindaco che è Chiamparino che ci ha creduto tantissimo. Per cui secondo me grazie a tutto questo e grazie anche ai nuovi giovani che hanno voglia effettivamente di andare avanti, di provare, anche di provare su se stessi proprio, diciamo rischiando in prima persona, sicuramente avremo e abbiamo delle ottime sorprese. Bene, un grazie anche a Monica Milani, la rincontreremo nel proseguo delle nostre puntate e magari nella stagione che verrà di Sapere e Sapori. E riecco la nostra Elisabetta che cosa ci propone adesso. Sì Max, siamo arrivati al momento più dolce della serata con il nostro dessert composto da bunette e panna cotta. Bene, molto bene, grazie. Veniamo invece a una battuta conclusiva con l'amico Dante Zanetti di Union Model Company che ci continua a seguire durante le nostre puntate di Sapere e Sapori. Che cosa ci aspetti? Direi, legandosi al discorso della nostra cara amica, è un po' un po' strano, però arrivano le belle giornate, finalmente il tempo si è aggiustato. Direi ai torinesi e ai piemontesi di uscire la sera, di andare da qualche parte, divertirci, svagarsi. I problemi si cercano di risolvere di giorno, la sera andiamo un attimo fuori a respirare. Almeno la sera seguiamo il consiglio anche di Marco Garena e sorridiamo un attimo. Andiamo adesso a scoprire, un grazie a tutti gli amici di questa bella tavolata, adesso andiamo a scoprire quali sono, attraverso le segnalazioni di Federica e di Elisabetta, quali sono i commenti degli ospiti di questa nostra bella serata alla cloche. Grazie Max, siamo qui nella sera del tango e sono con due ballerini, voi siete? Paola e Michele. Allora, appassionata di tango? Sì, parecchio, da circa un paio d'anni. Quindi immagino che il momento speciale che vi ha portato qui stasera sia proprio ballare il tango qui, vero? È stato molto carino, molto interessante. Conoscete già questo posto? In realtà io non sono mai venuta, lo vedevo solo passando. Ho capito. Ho notato che c'è stato un ampio buffet, che cosa avete preferito? Tutto, dagli antipasti al dolce, tutto molto molto buono. Una buon gustaia. Precisamente. Accompagnato da un vino, immagino, che cosa avete scelto? Un vino rosso, veramente non lo so cosa ho bevuto perché me l'ha messo lui nel bicchiere, è un bonarda. Ah, ok, va bene. Allora, io ti ringrazio per la tua disponibilità, vi lascio continuare a ballare e a divertirvi in questa serata e restituisco la linea. Siamo qui con i nostri amici del tango e stiamo in compagnia della signora... Fiammetta Radina. Lei è un appassionata di tango? Molto. Tanto lo seguo. Molto, sì. Da quando sono bambina. Si è trovata bene in questa serata? Molto. Il piatto che le è piaciuto di più? Gli agnolotti. Bene, se si ripresentasse l'occasione di un'altra serata qui alla Cloche, con la possibilità di un'altra serata con il tango buffet, riparteciperebbe? Ben volentieri. Benissimo, la ringrazio, a voi. Bene, cari amici, siamo giunti alla fase conclusiva di questa nostra nuova bella, ci auguriamo piacevole serata di spettacolo e gusto dal ristorante La Closhing, strada traforo del Pino 106 a Torino. Siamo giunti al solito nostro momento di interazione con voi, che ci scrivete le mail e ci segnalate all'indirizzo redazione chiocciola piemontepaese.it quelli che sono i piatti da voi rienterpretati, rifotografati e mandati a noi per mostrarli in diretta nella nostra trasmissione. Tra le mail che ci sono giunte abbiamo selezionato i Brute Boom del signor Federico di Casale Monferrato, realizzati con 25 grammi di glucosio, 85 grammi di albume d'uovo, 70 grammi di zucchero, 275 grammi di zucchero a velo e 600 grammi di nocciole. Sciolto in un pentolino zucchero e glucosio, il signor Federico monta gli albumi a neve per 5 minuti e quindi aggiunge lo sciroppo di zucchero raffreddato. Continua quindi a montare per altri 10 minuti e successivamente incorpora lo zucchero a velo e monta almeno ancora per altri 5 minuti. Inserisce quindi le nocciole per una metà intere e per l'altra metà tritate in maniera grossolana. Questo preparato viene quindi suddiviso in piccoli mucchietti su un impasto di carta da forno e vengono cotti dal signor Federico per 8 minuti a 160 gradi. Nella fotografia potete ammirare il risultato di questo che è un dolce tipicamente piemontese, facile da realizzare ma estremamente buono. Date libero sfogo anche voi alla vostra creatività e presentateci una ricetta in un piatto da portata. Fotografate la vostra opera e inviateci l'immagine via mail all'indirizzo redazionechiocciolapiemontepaese.it Il piatto più originale e particolare verrà premiato con un invito in una delle prossime puntate di Saperi e Sapore. Continuate a seguirci su Rete7 ogni martedì alle 22.30 e in replica il giovedì notte a luna sia sul canale 12 sia sul canale 113 del digitale terrestre ma anche su PeopleTV sia sul satellite in chiaro sia su Sky al canale 825 e su Gold Italia ai canali 128 e 179. Ci trovate poi anche su Videonord al canale 72 e su NordOvest VDA al canale 113. Seguiteci anche su internet attraverso il portale internet www.piemontepaese.it e su Youtube al canale Saperi e Sapori e attraverso le segnalazioni dei nostri media partner quali il Mercoledì e Però Magazine. Ci vedremo la prossima settimana attraverso l'azzurro cielo del Piemonte. Andremo alla scoperta infatti della Touring Flying School e del ristorante Antica Zecca a Caselle Torinese. Una vera e propria porta piemontese per quello che è il nostro cielo. Bene, siamo giunti alla fine vera e propria della nostra puntata da Elisabetta Danieli, Federica Biei e da Massimiliano Panero. Un grazie e arrivederci la settimana prossima. Grazie a tutti. Grazie a tutti.